Allora cominciamo e cuoco. Cuoco. Un saluto alla Polonia. Prima devi salutare tutti. Un saluto a Danita. E devi dirci cosa fai. Cosa fai di buono. Questa è una ricetta inventata da me. Si chiama ricetta H. Perché? Raccontaci. Raccontaci la storia. Raccontaci. Perché una volta non avevo questo ingrediente. Ho mischiato tutto e è riuscito un copolavoro. Abbiamo messo un po' di pomodorini tagliati e una scatoletta di tonno. Dopodiché mettiamo la sorpivetta che si deve sciogliere in quadro in quadro. Ma anche due vedo. Due due in quadro in quadro. Sì sì. Questa ricetta H. Perché la sorpivetta si deve sciogliere per dare il sapore del formaggio scaduto. Che buon sapore. Siamo fottuti. Chi vedrà questo video. E ci troverà morto. E poi cosa facciamo? E bisogna attendere che la sottilezza si sciogli e si mischia col tonno sugo. E basta. E qua cosa abbiamo? E qua sta riscaldando l'acqua. E poi cosa facciamo? E dopo dormiamo. Un saluto a Gianluca. E bacio. A Pati. A Fabio. E baci. Un saluto. E poi è arrivata la prova del Nougat. Mmm. Sta di vomito. È perfetto per noi Evelina. Dopo il kebab di un euro questo è spettacolare. Vomito con un sottilezza. Ciao. Ciao. Grazie.